Grazie a voi. Io ho relativamente poco da aggiungere a quello che ha detto il collega Nordio. Mi riporto integralmente. Peraltro c'è stata una discussione su cui l'univocità di pensiero è stata espressa già ieri in Consiglio dei Ministri tra tutti i membri del Governo. Segnalo, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda anche i riflessi, la gestione anche dal punto di vista della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, rappresento il pensiero che ha già espresso il Ministro Nordio anche in questo settore, nel senso che noi siamo assolutamente non condizionati da quelle che sono le vicende della gestione di questa che è il caso del detenuto cospito, che ovviamente, come è stato detto, passa attraverso valutazioni innanzitutto dell'autorità giudiziaria e poi decisioni che trovano dei loro canali ben precisi che in democrazia sono quelli dei canali giudiziari e quelli che poi vengono presi al termine delle valutazioni che vengono fatte in ambito giudiziario. Quindi non vedo perché anche in questo caso non ci si debba riportare in maniera assolutamente fredda e asettica rispetto a quelle che sono le valutazioni che sono state fatte ed altre che saranno fatte. Quindi è fin troppo pleonastico, diciamo, ultronio dire che non ci faremo condizionare perché è nei fatti, quindi non c'è nessuna valutazione né in un senso né in un altro. Quindi il percorso del 41 bis, come ha illustrato il Ministro Nordio, seguirà i percorsi che sono stati già intrapresi, altri, al pari di qualsiasi altro soggetto che viene sottoposto a procedimento giudiziario, per quello che è la ricaduta sul sistema dell'ordine della sicurezza pubblica. È ovvio, è evidente che i fatti di questi giorni hanno imposto delle riflessioni al sistema della sicurezza pubblica in relazione al fatto, insomma, di innalzare il livello di attenzione rispetto ad alcune effervescenze che si sono già manifestate in maniera anche molto critica. C'è anche la valutazione storica, insomma, che c'è, insomma, della capacità di porre in essere certe azioni da parte, insomma, del movimento anarchico e quindi di coloro i quali l'hanno interpretato anche negli anni. Noi domani abbiamo, io ho convocato, una riunione del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo, presiedendolo di persona, solitamente credo che sappiate tutti, insomma, l'organismo che è un po' una particolarità italiana, è il luogo dove tutte le forze di polizia e il rappresentante dei sistemi dell'intelligenza nazionale si scambiano informazioni per avere una visione coordinata. E' una cosa che a noi italiani sembra persino ovvia e banale, ma vi posso garantire che è una particolarità del sistema italiano che quindi ha un suo peso, una sua efficacia certificata nel tempo e negli anni su quella che poi è l'attività di prevenzione che le forze di polizia dispiegano. E quindi domani faremo questa analisi più dettagliata. Vi anticipo che non ci sarà nessuna valutazione che riguarderà i riflessi, diciamo, sulla procedura del 41 bis del detenuto cospito. Ho detto qualsiasi cosa che riguardi il detenuto cospito. Per noi la valutazione sarà oggettiva. Io direi che, come al solito in questi casi, non ci sono motivi. Adesso poi faremo un'analisi né per dire che va tutto bene, che quindi non è successo niente in questi giorni, che non ci imponga di riflettere su ogni innazzamento possibile dell'attenzione, ma neanche, ecco, non è che siamo con la minaccia terroristica dietro l'ancolo. Quindi voglio dire, con molta professionalità, serenità, insomma, faremo le nostre valutazioni e quindi prenderemo le decisioni. Alcune sono state già prese, alcune le dirà il Ministro Tajani, vista la pratica che c'è stata soprattutto della commissione di alcuni episodi all'estero presso le nostre sedi diplomatiche. Quindi dirà il Ministro Tajani che cosa già è stato fatto. È chiaro che se noi guardiamo anche un po' quella che è la metodologia che questi soggetti hanno praticato negli anni, ci sono alcune cose che ci imporranno un innalzamento del livello di attenzione, le sedi istituzionali, insomma l'attenzione ad alcune modalità molto insidiose, peraltro, con cui negli anni si sono manifestati gli attacchi anche di natura terroristica, in qualche modo a cui hanno fatto ricorso gli anarchici. Sicuramente ci saranno altre manifestazioni, probabilmente, come quelle che abbiamo vissuto l'altra sera qui a Roma, dove io colgo l'occasione per segnalare, ma non è solo l'apprezzamento di circostanza, la competenza, l'equilibrio che hanno dimostrato le forze di polizia nel non raccogliere provocazioni e quindi anche a costo del ferimento di alcuni agenti, uno in particolare, insomma, si è contenuto quello che era, credo che sia visibile, ci sono le immagini prese anche da servizi giornalistici, di quale livello di virulenza, di quale livello di contrapposizione era stato messo in campo e quindi qual è stata la freddezza, la competenza e la professionalità degli operatori della Polizia di Stato che si sono frapposti senza che ci fossero danni ulteriori. Questa sarà la cifra a cui impronteremo tutte le misure che dovremo adottare nel futuro e quindi io, ecco, questo è un po', ecco, voglio rappresentare, soprattutto aggiungermi in questo, in un'assoluta distanza rispetto a quelli che sono gli elementi che devono essere valutati in sede processuale. In una democrazia compiuta come la nostra, le valutazioni su 41 bis sì, 41 bis no, questo, quell'altro, si fanno nelle sedi competenti. Tutto ciò che ne consegue su altri settori come quello della tenuta dell'ordine pubblico verranno valutati a prescindere e quindi, ecco, a partire dalle valutazioni più approfondite che faremo domani, ovviamente prenderemo delle misure cautelative in più e voglio chiarirlo sin da subito, siccome le modalità con cui storicamente alcuni gruppi si sono mosti, storicamente sono anche connotate da una certa insidia, nel senso non tutto facilmente intercettabile con la prevenzione, è chiaro che poi esistono, e quindi un messaggio che lanciamo anche a chi vivesse certe suggestioni, esistono anche gli accertamenti successivi, ed è prova proprio la storia di Cospito, che appunto a sua volta ha resosi autore di alcune di queste vicende nel passato, ma poi è stata assicurata la giustizia, quindi lo voglio dire sin da adesso, non è che il mettere in pratica azioni con un certo contenuto di insidia, perché effettivamente è difficilmente intercettabile in sede di prevenzione, fa sì che il sistema sia di polizia di sicurezza che di polizia giudiziaria poi non riesca ad assicurare magari successivamente gli autori alla giustizia. Quindi tutto qui.